Ciao, sono Marta, benvenuti sul mio canale YouTube interamente dedicato al fitness. Nella sezione playlist potrete trovare più di 1500 allenamenti totalmente gratuiti di indoor cycling, ginnastica a corpo libero o con piccoli attrezzi, trampolino e walking. Troverete gli allenamenti suddivise in cartelle in base alla loro tipologia e alla stagione. Nella pagina principale del mio canale invece ogni giorno troverete un nuovo allenamento per raggiungere i vostri obiettivi, che siano migliorare le prestazioni, dimagrire o semplicemente mantenervi in forma. Quest'anno la programmazione sarà la seguente. Martedì e giovedì indoor cycling. Lunedì e venerdì ginnastica. Mercoledì e sabato invece trampolino. Per chi si vuole allenare tutti i giorni, la domenica ci sarà un video breve, remixato. A ciò si aggiungerà la proposta nuova di quest'anno, che sarà un allenamento di ginnastica a corpo libero o con piccoli attrezzi dedicato ai ciclisti, perché è fondamentale abbinare alla pedalata anche una preparazione a terra. Vi consiglio infine di visitare anche tutti i giorni la sezione community, perché troverete tanti post dedicati all'allenamento. Vi aspetto dunque per sudare e divertirci tutti insieme. Ciao!